Ho ancora tra le mani il tuo profumo, anche se sbiadito, lo sento ancora. Eppure di tempo ne è passato, ma non è passato quel profumo di te, della tua delicatezza, il tuo essere fanciulla e vivere alcuni attimi come mai vissuti prima, come tornare a riscoprire con gli occhi i colori della vita, dei sentimenti, di quel qualcosa che dentro ti agita in modo piacevole e ti fa fare cose assurde solo per aver liberato una parte di te in un giorno diverso. Forse non particolarmente sobrio, ma pregno di tanto di quel calore intorno appena percepibile in quel tempio solo perché, nel voltarti più volte intorno, cercavi quegli occhi in quel volto che, per un tempo esagerato, hanno cercato di incontrarsi ma sono rimasti sconosciuti ai tuoi, benché attratti come calamite per pochi secondi. Tra le mani, questa voce di Mauro Mazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.